Stasera noto una tensione più vibrante. Se interessano, scambiano commenti. Sì, sì, partecipano, professore. Non si scambiavano commenti. Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che l'Italia stava vincendo per 20 a 0 e che aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo. Sì, è il dono. Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calvone? Scusi, posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, fantocci. Si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Cotionkin è una cagata pazzesca! Bravo! 92 minuti di applausi! Pantozzi e il secondo tragico Pantozzi tornano al cinema restaurati in due cappa. Va di subito a comprare il biglietto alla cassa! Come umano, eh? Molto umano, ciao!